1864, Virginia, stato nel sud dell'America settentrionale, in piena guerra di secessione, un collegio femminile accoglie un soldato nordista, Colin Farrell, ferito gravemente e in fuga attraverso i boschi. Le donne e le giovani dell'istituto, fino a quel momento praticamente isolate e senza contatti con il conflitto all'esterno, si fanno carico delle cure e della riabilitazione dell'uomo. Questa convivenza sconvolgerà la vita delle collegiali, instaurando una crescente tensione emotiva e erotica che sfocerà per entrambe le parti in una serie di situazioni nocive e pericolose, concludendosi inevitabilmente in tragedia. L'inganno è il remake di La notte brava del soldato Jonathan, pellicola del 71, diretta da Donna Siegel e con Clint Eastwood nel ruolo del militare, a sua volta adattamento del romanzo omonimo. Che cosa mi avete fatto? Muntare vendicative! Muntare vendicative!